La barzelletta di Geppo C'è una ragazza di 35 anni che ancora non ha trovato marito Allora la mamma è un po' impensierita da sta situazione E un giorno prende il coraggio a due mani, che fa? Scrive una lettera e mette un avviso sul giornale E scrive così Giovane ragazza, tutta fuoco e tutta curve Assetata di vita e d'amore Allacerebbe relazione con distinto signore benestante Anche anziano a scopo matrimonio Ma passa qualche giorno Dopo qualche giorno arriva la prima lettera del pretendente La ragazza, capirai, tutta emozionata Apre la lettera, si mette a legge E come si mette a legge scoppia a piangere La madre gli fa Figliola mia, ma che hai fatto? E questa che ha la lettera a mano mentre piangere gli fa È la lettera del papà